L'Apollo Riccardo, l'entrata è bloccata I diagrammi che usavano per il tour dimostrativo di Sevastopol sono nei baraggi Vedi se c'è un portello secondario Ok, vediamo C'è un condotto elettrico collegato al centro Apollo Posso usarlo? Pensi di passarci Togli la corrente, fai dei respiri profondi, ti comprimi, facile Non verrò lassù a tirarti fuori se rimani incastrata Infiltrarsi in un condotto attivo farà male però, no? Dovrò togliere la corrente prima Riccardo, il condotto è disattivato per ora Sono riuscito a vedere i diagrammi di Apollo Credo che tu possa usare il condotto della turbina per entrare C'è un interruttore di emergenza per spegnerla lì vicino Ma non dura molto Dovrai entrare velocemente La turbina è spenta, via libera Sbrigati, se i sistemi di Apollo si surriscaldano si riaprieranno Sarà davvero dura Buona fortuna Ripley Man mano che vai in profondità il tuo segnale radio diventa più debole Ti perderò presto Ottimo Tieni le dita incrociate per me, eh? Ci saranno un sacco di androidi Z da laggiù, Ripley È pericoloso Samuels si è sacrificato per farmi arrivare qui Devo provarci Era un tipo in gamba per essere un sintetico Ciao 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 Weyland e Yotani Costruiamo Montigliori